Vado P.O.? E' già iniziato P.O.? Sì Il video è già iniziato? Sì che è già iniziato E non ci sarà nessuna intro, sai perché? Perché Kisuke farà una bellissima intro sua Animatissima Vero Kisuke? Non divertimento Però è una cosa molto scadente Come piace a me Allora signori Io sono un gas Faccio un po' cagare Come avrete visto nel video precedente Cioè ci provo Nel video precedente qualcosa di buono ho fatto Quando ho ucciso Sabrina No, ho ucciso Sabrina e ho incolpato Andrea Il fantasma di Sabrina risorto e tornato A incolpare Andrea a sua volta E di conseguenza Me la sono cavata, scampata Come vedete qui c'è La Sabri, amico punto Andrea Topi mio figlio Nicola, Nicky Poi c'è Jack che è un amico nostro Poi chi altro? Andiamo a trovare gli altri Dove sono gli altri? Allora qui c'è ancora Andrea Io offro una taschina Una taschina Una tascotta Qui Un upload Proprio massimo intrattenimento Per Youtube Lo so Vedere una barra verde che si carica Però a voi piace Perché di video di Among Us Ne vedete Come ne vedo apparecchi anche io Quindi c'è da dire 9 0 8 7 7 Kisuko Tanto L'avete visto C'è anche Kisuko Come avete visto Kisuko che editerà questo video E farà Tante animazioni E cose strafiche In questo video Fichissime Vediamo un po' Si si alza La barra La task Vediamo un po' Si si alza Cacciunca Un upload Un po' lungo Però Qui si è alzata E se è andata Ok ci sta Chi è lui? Chi è Ele Eleonora Invece un'altra amica nostra La cara Vecchia Eleonora Questo qui Mi sta un po' Antipatico Perché tu lo fai Te ne vai E poi Funziona qualcosa Cioè fa da solo Cosa fa? Non lo so Kisuko che aspetta qui Se c'è qualcuno O sta facendo una task Vediamo se si alza la barra Dovrei vedere Però mi sembra che lui Già l'ha fatta una task Da qui E lì dove l'ha fatta Ah no E Kisuko Vado a vedere Se ha ammazzato qualcuno là In come si chiama In quello che io chiamo Il tavolo da biliardo Ah guarda come insegue Sì Mi sentite? Ah ok Ah no Ma avete ucciso il mio popo Infatti l'ho sentito Dietro di me Dietro di me L'ho sentito che faceva No 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 Comunque Penso sia stato Oh Penso sia stato Jack Perché è uscito da quella stanza L'ho trovato nella stanza L'ho trovato nella stanza In quello che io chiamo Il tavolo da biliardo Che è dove passi anche la tesserina Andra perché hai votato? Jack Perché mi sembra che fosse uscito da una botola Però non ero sicuro Ma mi basta quello che dice Peo Jack qual è la tua difesa? Perché non ci trovo nessuna botola Solo quello Hai ammazzato Jack Jack Domanda Jack la domanda è Hai ammazzato mio figlio? Non mi permetterei mai Non mi permetterei mai Jack se mi stai dicendo una bugia Amma mia Chippo Che schippi No Votate Jack L'aniku L'aniku Era in angoli a far niente O era su Instagram L'impressione che Kisuke abbia peccato una tasca Anch'io ho l'impressione che Kisuke abbia peccato una tasca Io non mi ricordo chi Ma qualcuno mi ha visto che facevo gli asteroidi Allora Kisuke io visto sulle telecamere E sei stato sempre fermo su un punto E la barra non si è alzata E sei andato via Kisuke io per Giusto per darti torto Dico che sei tu Perché mi dici che sempre che sono io Sì l'ho visto l'oro È una delle poche che so fare Non siete mutati ragazzi Non siamo mutati Ah scusa Che è? Elle forse mi hai salvato la vita Io ho un problema Cosa? Ho finito le tasche Ho finito le tasche Come si fa adesso? Allora Allora io e te adesso giriamo insieme E ci facciamo darli via vicenda Io già stavo seguendo Kisuke Ma cosa succede se finisci le tasche? Oss Niente Eh Anche io ve lo chiedo Allora posso dire una cosa? Io e Kisuke ci siamo trovati chiusi Nella zona per andare alla E non vi siete ammazzati? Ok Non ci siamo ammazzati Secondo me Io mi porto davanti Io mi sto girando a guardare Secondo me Dato che è morto Soltanto mio figlio Ed è stato Jack Che abbiamo cacciato L'unica altra pessima killer Potrebbe essere Nicole Ma che cosa stai dicendo? Io ero nella Aspetta che c'è la mappa Nella navigation Io ho dubito Peo Accusa un po' troppo Ah è vero che il video è suo Deve fare il fan internet Deve fare il fan internet Per i bombastic Prima sei stata due volte Ferma a caso O eri Nella partita prima Quando hanno avviso Ok Nicole Giori potete dire Nicole di prendere un respiro profondo In coro Prendere un respiro profondo Ciao Nicole Ci vediamo nell'aldilà Vota Nicole Saluta G Fai un salutino a Jack Quando lo incroci nello spazio Ciao E Olè GG Nicole Ho girato i 5 minuti Eravate tutti in coppia Jack Non ti permetterei mai più Di ammazzare mio figlio per primo Era l'unico Che era da solo Sabri ti sento malissimo Ho cambiato il quadro per una tasca Era l'impostrice Ci ha fatto finta di fare la tasca Ma era un quadro No vabbè Eh si è Ok iniziamo Bu 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 Chi su che Se non vinciamo questa Madonna Abbiamo tutti visto Per uscire dalla botola Dalle telecamere Almeno io e Diego L'abbiamo visto Ma non so se è anche Giuliani Davvero? C'è una telecamera Sopra quella botola Ma c'è una telecamera Sopra quella botola Ah Gisli Un bel respirone Bello Upsi Upsi Peo 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 questa Era la partita Per il tuo video Da impostore Ok vi dico però Secondo me Peo Ma davvero c'è una telecamera Sopra la botola Ma io lo sapevo troppo Ma io lo sapevo troppo Ero Kisunko cercherò di esserti utile Nel modo più utile possibile Intanto l'ossigeno Bravo Kisunko Bravo Kisunko Pare che non faccia in tempo comunque Ma vabbè Abbiamo vinto Sabrina Grazie alla mia incredibile intelligenza Del farmi vedere sotto botola E mettere pressione a Kisunko Certo Ma in realtà io Ce l'ho fatta solo perché Non c'era nessuno Che faceva l'ossigeno Bravo Kisunko C'è arrivato proprio Ha detto bravo Però ho peo pure Beccati questa Kisunko Bravo Bravo Tristissima Una bella partita Che ho come impostore Grazie grazie Lo so Grazie grazie Mutiamo La mia performance Da impostore lo so Fa accapponare la pelle Poi a me questo gioco Devo ammetterlo A voi che state guardando Piace più guardare Kisunko Bastardo animale Perché mi fai questo? Tu sai che devi editare questo video Adesso se su questo video Non metti un fottio Di crop Zoom Su ogni volta che una persona parla Voglio il suo nome in primo piano Che si vede bene E anche un PNG Della persona che parla Vorrei Lo so Cosa facciamo ragazzi Aiuto Tobi Tobi sei tu? No Tobi Secondo me Tobi Attenzione Ma ci seguiva Tobi difenditi Se vi azzardate a cacciare Mio figlio Da questa navicella Non si può Non si può Quindi cosa facciamo? Quindi cosa facciamo? Scusate ma a chi minchia manca le tasche? Infatti Io le ho finite da un po' Anche io Il fantasma formaggino Non le sta facendo da un pezzo Sei tu? Il fantasma formaggino? Si sono io il fantasma formaggino No Ho smesso di fare le tasche nel momento in cui sono morto E' una palla I fantasmi non fanno le tasche Va bene adesso questo fantasma le farà le sue tasche E facciamo ste maledette tasche Metti un filo rosso nel buco del filo rosso Metti il rosa Metti il giallo Metti il blu Ok abbiamo fatto Poi qua Un altro filo Della miseria Va Boom Boom Il giallo Dove va? Nel giallo Wow Questo cos'è? Pia la foia Butta la foia Pia la foia Butta la foia Questo è il tipico allenamento da Karate Kid Dove sono altre tasche? Armin Prendi questa carta Passa la carta Troppo Ho finito le mie tasche Riusciva Vinto Lo sapevo Che era lui Lo sapevo Posso dire una roba mia di scolpa Gravissima Vai Cioè raccontami E le Nicole Si sono accordate via voce Che dovevano stare insieme Perché? Non si può assolutamente fare Che sono arrivate le pizze Quindi noi andiamo a mangiare Buon appetito No io devo ancora ordinare da mangiare Sabrina Quando mi cocci su LOL Ciao Ciao Grazie Grazie Non ho messo questa partita È stata un po' vuota Non ho messo questa partita Grazie